Che cos'è lo IAI? Lo IAI è un think tank, ma qui bisogna spiegare che cos'è un think tank. È un gruppo indipendente di ricercatori e di analisti, in questo caso di politica internazionale, che mette le proprie conoscenze e idee al servizio delle istituzioni, dei decisori politici, degli operatori economici e della società civile, orientandone le scelte e dando loro gli strumenti per prendere decisioni su temi chiave. Facciamo ricerca, con progetti dedicati e decine di pubblicazioni, articoli, studi, libri e riviste, in italiano e in inglese. Ci occupiamo di integrazione europea, sicurezza e difesa, economia, energia e clima. Ci occupiamo di apporti transatlantici e politica estera italiana, di Africa, Medio Oriente, Russia e Asia. Organizziamo eventi, conferenze, seminari, per parlare con i leader internazionali, con le istituzioni, con i nostri colleghi di altri paesi, per tenere vivo e alimentare il dibattito sulle grandi questioni del nostro tempo. Formiamo nuovi analisti, concorsi che si rivolgono a studenti e professionisti, ai quali forniamo tutti gli strumenti necessari per comprendere e operare nel complesso mondo delle relazioni internazionali. Partirà un negoziato che, in base al trattato, deve durare due anni. Comunichiamo i cambiamenti in atto nel mondo, guidando i nostri lettori nella comprensione dei fatti, aiutandoli ad inquadrarli nel loro contesto, a distinguere il vero dal falso. Questo oggi è un think tank, questo è lo IAI, un contenitore di persone, progetti e idee, aperto al confronto, aperto a tutti, per contribuire ad ispirare al proprio meglio l'Italia, l'Europa e il mondo. Grazie per la visione!